Studio integra un'agenda per la gestione degli appuntamenti al quale è stato dedicato un video a parte per il funzionamento quello che voglio farvi vedere in questo video è come invece andare a sincronizzare eventualmente un account google con il vostro studio sincronizzare un account google significa poter lavorare anche in mobilità cioè una volta che il mio account sarà sincronizzato io potrò vedere tutti gli appuntamenti che ho inserito in studio o inserito in google calendar anche sul mio smartphone per effettuare questa operazione impostazioni utente ancora impostazioni e andiamo a cliccare su google mi si apre quello che è ovviamente devo avere un account google a disposizione ma mi si apre quella che è la schermata degli account vado a inserire quella che è la password per il mio account ecco qui accedi e in automatico mi chiede che cosa voglio fare se voglio per esempio gestire i miei calendari gli do il consenti quindi verrà gestito il calendario relativo a questa mail una volta che ho dato l'ok posso anche chiudere questa finestra ecco che mi fa vedere i miei calendari a disposizione seleziono il calendario che voglio e faccio ok questo simbolo verde mi conferma che il mio calendario è stato sincronizzato quindi all'interno dell'agenda degli appuntamenti andrò a vedere tutti quanti gli appuntamenti che sono già stati presi che erano già stati inseriti nel mio account google e questo ripeto posso farlo anche in mobilità direttamente dal mio smartphone